Oggi prepariamo la crema d'aglio, ottimo per le bruschette e per le nostre pietanze in cucina. Mettiamo l'aglio nel mixer e copriamo di olio quanto basta. Adesso frulliamo. A noi che piace mangiare un po' piccante ci aggiungiamo anche un po' di olio di peperoncino, si può aggiungere anche un po' di rosmarino, basilico, quello che vi piace. Aggiungiamo anche un po' di sale. Controlliamo la densità. Adesso una parte la invasiamo e il restante lo aromatizziamo con il rosmarino. mustava a sottotitoli, fumato, sorris automation, la tua postia e bag害. Mettiamo la città qui al tema medio carna Yesms, sneeze a 60 cent belli el f Googlers di sottotitoli, così ossia alla fine del torno all'indonato un sistema che diminuisca. aggiungiamo rosmarino abbondiamo non ci piace teniamo e invasiamo che buon profumo per una buona crema d'aglio vi consiglio di acquistare l'aglio biologico da noi contadini spero che il video vi sia piaciuto e sia stato di vostro gradimento lasciate un like e iscrivetevi al canale ciao alla prossima ciao 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 ciao